... Bentornati amici al Festival del Cinema Indipendente, siamo in compagnia di Matteo Simone e Peter Ranelli che sono i registi di un documentario che è stato appena proiettato al Museo di Storia Naturale per le scuole di istruzione secondaria di... Bentornati amici al Festival del Cinema Indipendente, siamo in compagnia di Matteo Simone e Peter Ranelli loro hanno girato un documentario che si intitola Spero di conoscerla presto e approfittiamo della loro presenza per rivolgergli qualche domanda e soprattutto per conoscere le impressioni per esempio su questa giornata e non so che cosa ne pensi intanto dell'iniziativa e poi magari del Festival e soprattutto del coinvolgimento degli studenti in questa giornata. Sì, il Festival è un'occasione molto ghiotta per poter guardare delle opere prime o comunque dei lungometraggi o anche dei piccoli documentari che non hanno una distribuzione o non hanno una grossa distribuzione e un altro dato a favore del Festival è che comunque il contesto in cui avvengono le proiezioni è spesso quello delle vecchie sale cinematografiche come l'altro cinema e la sala Fedra quindi insomma abbiamo avuto un'ottima ospitalità dal Festival e siamo molto contenti di presentare questo filmato qui oggi per le scuole anche perché comunque il nostro documentario ha uno scopo comunque divulgativo e appunto presentarlo di fronte a dei ragazzi delle scuole superiori ci sembra proprio il contesto adatto anche in seno al Festival. Bene, come nasce l'idea di realizzare questo progetto? Allora l'idea nasce perché siamo molto amici, abbiamo conosciuto, abbiamo avuto la possibilità di conoscere Maria D'Orsogna che è la protagonista insomma del nostro documentario o meglio la testimona del nostro documentario e avendo visto insomma la passione e il fervore che faceva nella sua attività comunque una donna che vive in America, una professoressa insegnante all'University di California che però continuava a venire in Italia a lavorare proprio per contro la repatriarizzazione in Abruzzo e questo suo fervore, questa sua passione ci ha comunque interessato, incuriosito abbiamo avuto quindi la possibilità nel 2009 di seguirla nella sua attività e per tutto il 2009 quindi ogni volta che è tornata siamo stati con lei a seguire quello che faceva in tutto l'anno e poi il filmato l'abbiamo montato alla fine di quest'anno in cui abbiamo visto tutta una serie di cose e abbiamo raccontato questo spezzone di vita sua e di politica abruzzese e ne viene fuori un ritratto che secondo me rispecchia bene l'epoca che viviamo di mala politica, di cattiva democrazia e in cui abbiamo bisogno che i cittadini si riprendano un po' il territorio è una produzione indipendente che abbiamo voluto fare noi abbiamo avuto anche la possibilità di avere dei produttori che però all'ultimo si sono tirati indietro però noi abbiamo voluto farlo comunque il nostro documentario a spese nostre perché comunque ci teniamo anche al nostro territorio non è il primo che facciamo, ne abbiamo fatti diversi e abbiamo voluto in qualche modo raccontare noi stessi e il nostro territorio Avete dei progetti in futuro? Pensate di affrontare le stesse tematiche magari in altri progetti oppure vi dedicherete ad altro? Chi vuole rispondere? Rispondiamo tutti e due Sì, progetti ce ne sono però ovviamente non è né il periodo storico né forse il luogo ideale per svilupparle con una certa libertà e con una certa facilità Progetti ce ne sono però ovviamente noi anche se nello stesso ambito di azione però comunque per campare e per vivere facciamo lavori diversi che non sono documentari Io collaboro con una piccola società di produzione televisiva a Milano e Peter fa la stessa cosa a Pescara però ovviamente la possibilità di girare dei prodotti e soprattutto poi farli arrivare al pubblico è molto difficile quindi progetti ce ne sono però ci vuole anche insomma molta determinazione e soprattutto ci vuole molto lavoro proprio per sbattersi per creare le condizioni per farlo Sì, riprendendo un po' quello che dice Matteo la cosa che a me più dà fastidio insomma del cinema documentario che facciamo in Italia è che comunque non abbiamo uno sbocco in televisione che è una cosa che veramente trovo vecchia, antiquata e datata e questo è un problema Personalmente comunque io ho tanta voglia di espatriare da un certo punto di vista però continuo a resistere, continuo a stare qui e continuo a cercare e avere voglia di raccontare del nostro territorio perché in qualche modo mi sento come se dovessi farlo è come una specie di vocazione nel senso che magari sia bravo, non sto parlando di merito sto parlando proprio di spiacere a lasciare il territorio e non parlarne perché secondo me è importante parlare di oggi e parlare di attualità infatti adesso sto lavorando un documentario tra l'altro su un ex opificio che è stato insomma riconvertito che mi interessa perché secondo me racconta bene anche la racconteremo bene un po' il passato gli anni settanta in Italia e l'oggi, cosa è successo secondo me è una chiave importante di lettura del nostro territorio Bene, grazie ai nostri ospiti e cari amici del Festival vi aspettiamo in sala per le proiezioni e vi aspettiamo anche alla festa del cinema in fiera Arrivederci a tutti